Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi la bella partita tra Wesley So e Wei Yi giocata al secondo turno dell'Indoor Sabby del 2020. Una partita interessante anche perché ci permetterà di parlare un po' della classica manovra di cavallo nel gioco piano. Partiamo! Wesley So con i pezzi bianchi apre la partita con E4 e Wei Yi risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4 e siamo nel gioco piano. Alfiera in C5 giocata dal nero è la continuazione principale. Adesso per seguire sempre la linea principale il bianco dovrebbe giocare C3 e invece Wesley So continua con arrocco corto. Cavallo in F6 attacca il pedone, quindi il bianco lo difende con D3. Arriva D6, quindi stessa idea quella di proteggere il pedone 5. E adesso con C3 siamo rientrati nella linea principale. C3 è una mossa importantissima perché fa due cose buone. Prima di tutto supporterà la spinta al centro di D4. E come seconda cosa ha liberato la casa C2 in modo tale che l'alfiere potrebbe ritornare indietro e portarsi in C2 se sotto attacco. Ed anche il nero con A6 sta aprendo questa via di fuga per il suo alfiere scuro. Ma per quale motivo questa mossa anche per il nero? Perché una delle idee principali per entrambi i giocatori è trasportare il cavallo che sta sul lato di donna sul lato di re. Infatti vedete che per quanto riguarda il bianco il cavallo non ha più questa casa C3 che sarebbe la casa migliore di sviluppo per il cavallo. Quindi naturalmente si dovrà spostare in D2 ma vedete che da questa parte non ha grossi sbocchi. Quindi l'idea è quella di aprirgli un'entrata tramite la casa F1 per ritornare al centro oppure sul lato di re. paradossalmente anche il cavallo del nero pur se sviluppato in C6 che è la sua casa migliore sul lato di donna non ha grandi sviluppi. Intanto vedete che non sta attaccando niente come elementi bianchi e visto che il bianco ha giocato C3 non ha neanche delle buone case avanzate dove saltare. Gli rimane A5 ma A5 sul bordo vedremo che anche questo salto non è una grande idea. Quindi dopo A6 giocata dal nero, ah ecco scusate ma come mai quindi abbiamo aperto questa via di fuga? Perché mentre il bianco può iniziare subito con questa manovra di cavallo viceversa per il nero prima di iniziare con cavallo nel 7 a tentare di portare il cavallo sul lato di re conviene riportare indietro questo alfiare campo scuro in modo tale che la spinta centrale del bianco D4 non arrivi con tempo. Bene, andiamo avanti con la partita. Quindi dopo A6 Wesley So continua con torre in E1 e vediamo che anche questa mossa fa due buone cose. Intanto è un nuovo controllo su questa casa E4 in modo tale che quando il bianco spingerà in D4 il pedone E4 è sotto controllo. E poi ha liberato la casa F1 per fare entrare il cavallo. Quindi buona mossa anche se in questo caso la mossa più giocata era alfiere in B3. Il nero perché è alfiere in B3? Perché in modo tale che se l'alfiere va sotto attacco anche con la mossa alfiere in E6, se il bianco vuole può riportare l'alfiere in C2. Ma il nero gioca H6 e come mai non ha giocato quindi il salto di cavallo in A5? Ritorniamo indietro di una mossa perché vedete che anche il salto di cavallo in A5 non è che sia una grandissima idea. Perché il bianco gioca B4, vedete che quindi si rifarà sull'alfiere del nero. Il cavallo cattura in C4, il pedone B ricattura in C5, il cavallo è sotto attacco, si deve spostare, quindi tornerà indietro in A5, C per D6, C per D6 il bianco spinge in C4, quindi in modo tale da poter sviluppare il cavallo sulla sua casa migliore, quindi C3, e vedete praticamente che si è formata al centro una struttura che sembra proprio una maroxi bind e il bianco in questa posizione ha un certo vantaggio. Ritorniamo quindi alla nostra partita, dopo torre in E1, quindi per questo motivo il nero non gioca, non va a caccia di questo alfiere perché non gli porta grandi benefici, quindi per questo motivo viene giocato H6 a controllare la casa G5. Il bianco spinge in A4 in modo tale che l'alfiere in una mossa possa scappare in A2, poi attenzione perché adesso B5 è anche ben controllata e c'è la torre in A8 che non è protetta, e quindi il nero gioca arrocco corto. Adesso che il nero ha arrocco corto è possibile senza nessun rischio per il bianco giocare H3, quindi controllando la casa G4, e infatti H3 è la continuazione principale, ma iniziare subito questa manovra di cavallo come ha fatto Wesley So, addirittura nella pratica sembra avere risultati ancora migliori. Infatti arriva il salto del cavallo in D2, stessa idea per Ueghi che inizia il trasporto del cavallo sul lato di re, il cavallo bianco si sposta in F1, ed il nero continua con C6. C6 naturalmente che servirà a supportare questa spinta in D5, che sta anche per arrivare con tempo, mossa però mai giocata a livello dei grandi maestri che hanno sempre preferito completare la manovra di cavallo con cavallo in G6. Ma la vera novità della partita è alfiere all'indietro in B3, giocata da Wesley So, perché come dicevamo prima D4, e un'altra mossa buona è stata la mossa giocata nelle partite che io ho in database, perché come dicevamo prima sarebbe stato meglio per il nero, prima di iniziare questa manovra di trasporto del cavallo, di portare indietro questa alfiere in modo tale da evitare D4 con tempo. Comunque, entrambe le mosse sono due mosse buone, ma la partita alla mossa 11 diventa originale. Il nero continua concludendo questa manovra di cavallo, cavallo in G6, ed anche il bianco conclude la sua manovra con cavallo in G3, però purtroppo, come dicevamo prima, sarebbe stato molto meglio adesso giocare da spinta D4, oppure anche H3. Infatti adesso il nero porta indietro l'alfiere, alfiere in B6, arriva finalmente da spinta D4, e per D4, C per D4, e vedete che ora però arriva alfiere in G4 che attacca ed inchioda il cavallo. Wesley So gioca H3, Wei Yi cambia l'alfiere sul cavallo, ora adesso non si può ricatturare di donna, perché si perderebbe l'importantissimo pedone centrale di D4, e quindi il bianco deve accettare di avere la coppia degli alfiere, che comunque io in queste posizioni preferisco sempre, ma comunque sciopare il castello di fronte al re. Infatti il bianco ricattura col pedone G, siamo al primo quizzone strategico della partita, quindi non tattico stavolta. Secondo voi, in questa posizione, il nero dovrebbe giocare D5 oppure C5? Mettete pure in pausa se volete, e a voi la parola. Ritorniamo a noi, sembra che la spinta C5 non giocata da Wei Yi sia l'idea migliore, cioè almeno a me sembra proprio di sì, perché qui naturalmente in caso di D per C5 si riprende col pedone, poi si può anche cambiare posizione all'alfiere per connettere bene questo 3 contro 2, e invece in caso di D5 si porta subito da torre in C8, vedete che il pedone, il nero con questo pedone, ha ancora la possibilità di continuare a spingere anche con tempo. Ritorniamo alla nostra partita, invece in questa posizione il cinese gioca D5, ma Wessou risponde con E5 che attacca il cavallo, il cavallo naturalmente si dovrà spostare, vedete che adesso questa spinta C5 isola il pedone centrale, l'unica vera spinta di rottura a disposizione del nero è quella con il pedone F, che naturalmente prima o poi forse andrà anche fatta, ma indebolisce moltissimo la posizione del re, e poi secondo me è anche pericolosa, perché può creare un pedone passato e anche ben supportato da parte del bianco. Quindi dopo il cavallo in E7, Wessou inizia ad avanzare il suo pedone doppiato, arriva F4, la partita è in parità, ma non è tanto facile trovare un buon piano per il nero. Siamo arrivati infatti ad un momento piuttosto importante, perché Wessou continua con donna in H4, vedete che la donna con l'aiuto del cavallo sta attaccando F4, ma anche sta attaccando H3, sembra una mossa molto forte, ma purtroppo per il nero non lo è, perché c'è una buonissima difesa. La difesa è giocare il salto di cavallo in F5, che attacca la donna, non soltanto attacca la donna, perché la donna ora è costretta a mangiare in H3, quindi donna cattura in H3, il cavallo è sotto attacco, ma questo cavallo importantissimo va mantenuto, perché sta controllando la casa H4, la casa che nelle intenzioni di Weyye probabilmente, era la casa dove il cavallo nero doveva saltare per minacciare il matto in G2. Quindi Wesley So porta indietro la fiera in C2, proteggendo il cavallo che tiene tutta la difesa intorno al re. Adesso dopo il salto del cavallo nero in H4, cavallo per cavallo, e c'è la donna che ricattura. Ma qui arriva un'altra mossa forte, torre in A3, e vedete che la torre praticamente si sta per portare in G3, a fare da scudo al re, ma è una torre che è anche ben posizionata per offendere, diciamo, il re nero, e qui arriva la spinta F5. Spinta F5, e qui c'è un pedone passato, altra buona mossa di Wesley So, re in G2, vedete praticamente che adesso entrambe le torri del bianco sono in grado di spostarsi sul lato di re, e entrambe a minacciare l'arrocco, e la più pericolosa tra queste due è quella che arriva con tempo, torre in H1. Il nero continua con torre in A, che va in E8, che si centralizza un po' la torre, ma non risolve nessun problema, e Wesley So gioca torre in B3. Torre in B3 sta attaccando l'alfiere, ma anche il pedone in B7 dietro l'alfiere. La donna nera, per proteggere la posizione, è costretta a tornare indietro e a lasciare la zona di re in mano alla donna bianca. Arriva donna in H5, vedete che F5 è sotto attacco, quindi anche si può avanzare il pedone, se no casca H6, e per difendere la posizione, Wesley prova con la disperata cavallo in F6. Ora, il salto del cavallo in F6, anche se il cavallo in presa, ma il cavallo sta attaccando la donna, non può essere catturato, perché il pedone è inchiodato sulla torre in E1, quindi il bianco non può catturare il cavallo, ma la donna del bianco può catturare in F5. Guardate che posizione, praticamente qui si sta minacciando uno scacco fortissimo in H7, l'unico difensore, il cavallo della casa H7, è pure sotto attacco, e quindi il cavallo deve saltare in E4 a chiudere la connessione tra alfiere e donna, oltretutto anche aprendo l'attacco di scoperta della torre sulla donna bianca. quindi la donna si deve spostare in G6, ed il nero cattura quello alfiere in D4. Vedete che c'è anche F2 sotto attacco, ma Wesley So può giocare tante buone continuazioni. Andiamo per esempio a vedere che succede dopo torre cattura in B7. Dopo torre cattura in B7, che è buona, ma non giocata da Wesley So, naturalmente qui si minaccia matto in 1, quindi il nero deve giocare torre in E7, torre per torre, la donna ricattura, la donna bianca ricattura in C6, c'è il centro completamente sotto attacco, questa continuazione mi sembra ottima, e mi sembra che il bianco stia proprio vincendo. Ritorniamo a quando il nero cattura in D4, c'è anche un'altra bella continuazione, che sarebbe F3, quindi F3 attaccando il cavallo riapre, oppure tenta di riaprire questa diagonale importantissima, quindi tenta di stabilire la connessione tra alfiere e donna per dare scacco e tentare il matto, quindi spostare il cavallo in C5 non funziona, andiamo a vedere che succede, dopo il salto del cavallo in C5, la torre sotto attacco si sposta in B4, è rimasto l'alfiere sotto attacco, c'è anche l'idea di dare scacco, quindi è uno scacco fortissimo, ci sono troppe minacce, e quindi il bianco sta vincendo, ma dopo F3, bisogna però calcolare che succede se il nero invece di spostare il cavallo, gioca donna in H4, attenzione perché la donna arriva in H4 con tempo attaccando la torre, e c'è anche quello che sembra un forte scacco in F2, e quindi qui non si può catturare il cavallo, il bianco deve continuare con torre in E2, ora veramente il cavallo si deve spostare, salto del cavallo in C5, ma anche qui ci sono tante mosse buone per il bianco, mi sembra che l'idea più semplice per vincere la partita è catturare con la torre in B7, quindi torre cattura in B7, anche qui si minaccia il matto, quindi praticamente si costringe il cavallo a catturare la torre, questo sacrificio è una deviazione in modo tale che il cavallo non stia più controllando la casa E6. Dopo cavallo cattura in B7, arriva E6, protetto da donna e torre, vedete che il pedone sta chiudendo la via di fuga da torre, quindi un eventuale scacco di donna in H7 diventa scacco matto, e quindi qui la situazione si fa grave, bisogna rimuovere il pedone, torre cattura in E6, quindi abbiamo pure il ripreso materiale, la donna ricattura in E6 con scacco, il re si sposta in H8, donna in G6, re in G8, donna cattura in C6, e praticamente anche qui va a cadere tutto il centro, e la partita è finita. Ritorniamo a noi, dopo questa cattura di alferi in D4, c'è anche un'altra buona idea, quella di rimuovere semplicemente il cavallo, quindi torre per cavallo in E4, il pedone ricattura, adesso il bianco ha una fortissima iniziativa e quindi sta vincendo, arriva torre in G3 con minaccia di matto, donna in D7 a proteggere G7, e questo è uno degli ultimi momenti critici della partita, perché Wesley So con 50 secondi sull'orologio, e Wei Yi con 33 secondi devono trovare rispettivamente il primo delle buone mosse per continuare l'attacco, il secondo delle belle difese. Quindi adesso cosa fare per il bianco? Alfiere cattura in E4 non giocata da Wesley So non è che sia la mossa migliore, ma il bianco sta comunque vincendo, il nero giocherà torre in F7 anche per aprire una via di fuga a re, e per il bianco in questa posizione la continuazione più forte è torre in D3 che attacca ed inchioda l'alfiere. Vi lascio nella descrizione sotto il video tutta la possibile continuazione del bianco, che è molto lunga ma anche interessante se volete vederla. Ritornando a questa donna in D7 la continuazione migliore sempre non giocata da Wesley So è alfiere in E3. Alfiere in E3 e ora qui attenzione perché la donna è costretta a mantenere la difesa di G7 quindi praticamente questo alfiere è sotto attacco e non protetto quindi il nero dovrà cambiare gli alfieri. Alfiere cattura in E3 il pedone F ricattura di nuovo e bisogna stare attenti perché si potrà dare uno scacco ma quando il re si è mosso non si può catturare l'alfiere perché se no si piglia matto quindi si ci potrà essere questo donna in D2 con scacco ma quando il re si sposta la donna deve ritornare indietro donna in D7 con scacco attacca e protegge la torre va in G4 e adesso praticamente sembra che non c'è più contro gioco arriva B5 ma E6 è una mossa chiaramente vincente perché arriva con tempo e sta controllando come abbiamo visto prima l'importantissima casa F7 la donna si sposterà in E7 ma praticamente dopo alfiere cattura in E4 qui c'è già il matto forzato non in una perché si può sacrificare qualche pezzo si apre questa casa F8 ma in matto sta arrivando in 3 o 4 mosse ritorniamo a noi dopo invece donna in D7 che va a parare intanto l'immediato matto donna cattura in G7 Wesley So cattura quella donna in H6 donna cattura in H6 invece è un chiaro errore con 30 secondi sull'orologio Wei Yi deve trovare una bella difesa e siamo arrivati al nostro secondo quizzone sta a voi come il nero trovare la migliore continuazione per Wei Yi mettete pure in pausa e da voi la parola Wei Yi quindi siamo ritornati in onda Wei Yi con torre in F7 non trova la migliore continuazione perché non serve a niente questa mossa ritorniamo indietro di una mossa naturalmente la mossa da giocare è la fortissima torre cattura in E5 torre cattura in E5 perché qui non si può catturare perché si perde la partita se si cattura arriva torre cattura in F2 con scacco che veramente stavolta è una forchetta e va anche a minacciare dopo l'altro alfiere in C1 quindi qui il nero sta vincendo la partita quindi non soltanto però viene catturato un pedone qui praticamente viene catturato il pedone passato alla mossa successiva il nero raddoppierà le torri quindi con torre in F5 e qui praticamente il nero riuscirà a difendere la partita è in completa parità ma ritorniamo invece a quello che è stato giocato perché Wee giocherà torre in F7 ma vedete la debolezza di questa diagonale bianca chiara scusate arriva quindi alfiere in B3 che attacca ed è in chiodo la torre il re si sposta in F8 quindi schiodando la torre ma la donna di Wesley So va in H8 con scacco il re si sposta in E7 arriva anche donna in H4 con scacco quindi il re torna in F8 un nuovo scacco solo per guadagnare un po' di tempo sull'orologio di nuovo re in E7 e adesso donna in H5 quindi il re non può scappare perché si perde una torre piena quindi il bianco ha perso la qualità ma il nero se non continua con la difesa della torre perde una torre intera e quindi il re si deve riportare in F8 arriva la torre in G6 e qui misure drastiche torre cattura in E5 e attacca anche la donna quindi UEI ha trovato un po' quell'idea che si diceva prima ma stavolta non funziona più perché arriva donna in H8 con scacco il re si porta in E7 arriva alfiere cattura in F7 e qui un grosso problema un grosso problema perché questo alfiere anche se è in presa il nero non può catturare di re perché dopo donna cattura in G7 con scacco arriva il matto in pochissime mosse quindi visto che il nero non può catturare con il re in F7 almeno toglie la torre che è ancora sotto attacco quindi torre in C5 che minaccia anche l'alfiere ma dopo alfiere in E6 che attacca la donna il nero abbandona perché in poche mosse perderà la donna vediamo infatti cosa succede dopo che la donna si sposta dopo la probabilissima donna in C7 mossa importante a F5 che non solo sta proteggendo l'alfiere ma sta anche liberando questa importantissima diagonale per l'alfiere scuro quindi adesso attenzione perché sta per arrivare torre cattura in G7 con scacco che è anche un'infidata e che quindi costringerà il nero a catturare di alfiere in G7 quindi cosa fare se il re il re non si può neanche spostare per evitare l'infidata perché ne prende un'altra con l'alfiere in F4 e tutto prende anche matto in poche mosse quindi qui si può catturare con la torre in C1 la torre cattura in G7 con scacco il nero è costretto a catturare per non perdere la donna alfiere cattura in G7 la donna ricattura in G7 anche un'infidata quindi il re si deve spostare in D6 e vedete che non poteva ritornare indietro non si poteva anche spostare al centro perché si perde la donna ma la donna si perde lo stesso perché qui arriva donna in G3 con scacco e vedete che il re è costretto ad allontanarsi dalla donna re in C5 donna cattura in C7 e la donna è persa quindi una bella partita di attacco di un Wesley So che quest'anno sembra in gran forma vinta contro uno dei giovani più forti del mondo anche un esperto del gioco rapido perché vedete che Wally ha un elo molto alto ieri notte ho guardato un po' in giro su internet e ho visto che sono riusciti a tirar fuori anche la partita Borgov contro Harmon sempre della serie di Netflix quella giocata per prima a Città del Messico visto che il video della regina degli scacchi va forte mi sembra che piace tanto se vi interessa anche vedere quest'altra partita quella con Borgov con i pezzi bianchi fatemelo sapere nei commenti che mi metto al lavoro per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto vi do un grande abbraccio e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti